Ciao a tutti ragazzi, io sono Ale008, come va? Che cazzo dici? Sono io Ale008 Rubacanale Ok raga, ora insieme a Ricciardo faremo una prova a non spaventarti Ricciardo, ora mi scriverà uno che ha scelto lui Di video horror raga Vi posso dire, guarda, vi giuro che fa paura, io l'ho già visto 8 Scusate se parlo così ma ho un po' di raffreddore Eh scusa, non ci posso fare niente 360 piss Qua, ho trovato Eh questo qua ragazzi, possiamo iniziare il video, io direi Ragazzi, guardiamo Aspetta Aiuto Aiuto Non c'è niente Prego Già guarda, sto video mi sta iniziando, mi puoi inquietare Oh mio dio Forse è il proprio video, vabbè Dove si è di guardare Sì Non ci sono Sì Io vorrei sentire Sì 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 in a halo of glowing white light, it will protect you. I am going to put the door on the door. Iiuto, the door! Eh, va bene. Alessandro? Eh, va bene, non è successo niente. Ok, so come in a stare, come ho visto tanto. E poi le mete, Riccardo, come va? Posso farlo? Ok, e... Puoi commentare, Turma? Oh... Ok, va benissimo. Se mi spieghiando a giocati, credo. No, non ho fatto. Riccardo, non puoi, se no, io... Allora, Riccardo, anch'io. Ma perché c'entriamo? Ah, non è un triangolo. Ma che c'è un giusto, sti grassi? Perché c'ho le leggi di nardi. Ci sta per fare sti grassi? No, non so, stile, me li spieghi, giusto? No. Cazzo, ora che mi pare un tipo, lo so, eh. Cazzo. Ma non so, Paola, non so. Ricci, no, non so. Ma non vuoi mai, ora, ora mi metto, devi vedere. Mi riccem un po' a dire. Quanto siamo? A due minuti, Adri, sette minuti. La di Alessandro. Ma perché? C'è la... Ma via la di Alessandro, che cazzo, eh? Ricci, ci prendiamo, ti prego, cinque. Buono. Raga, io a casa. Due minuti e cinquanta sarà. No! No! Oh, raga! Raga, non lo sapevo! Non lo sapevo! E ora mi merito un minuto di cosa. Se la femmine di cinquanta non vedo. C'era un dolore qui. Veramente? Si. Si. Che ballava il t-tap. Che snob! E poi è diventato nostro. Però è la bellissima. Mi devi con me tre minuti e cinquanta. Eh raga, ma a me non sembra che faccia molto paura. No! Non lascialo! Non lo sapevo! Perché non va? Ora! Ah! Fa paura! E' stato scusato solo tra lei. E non lo sapevo. Non lo sapevo. E dove? guarda non rientro non c'è più testa si spegne la luce e accompagni si mi sento un rischio mi sento un rischio mi sento tutta la voce mi sento tutta la voce ora si riascende per me oh vedete la truca no ma non ci riascino ora si no ti prego ragazzi io direi che questo video non fa molta paura direi di guardarne un altro nooo questo non fa paura fa cagare no ragazzi concludiamo la live vi prego no quanti minuti sono uuuh horror on jumpscare ragazzi questo si sono 6 minuti allora porco ma ragazzi guardiamo 3 minuti guardiamo 5 minuti di questo e basta eh non fa paura guardiamo 5 minuti di questo e basta eh guardiamo 5 minuti di questo e basta eh che drogato questo che drogato questo wreck it look like questi luci dei ricchi uuuh uuuh che cazzo ma uuuh 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 ma che raga vediamolo ma puoi spostarti che figo raga veramente guardiamo il televisore mhm chi ha no uuuh cambia canale cambia canale si può non so che si può cambiare canale si può cambiare canale si può cambiare canale ti prego un po' che si può arriva uno ma non fa paura ma io ho paura io cadete poi arrivo mi cade basta gia guardate cosa è successo? madonna non voglio vederla ciao no vabbè sta scherzando cambiamo canale dove è il tericomando Ricky? ho sbagliato raga scusate ok dai non ne vuoi cadare ok questa è felice guarda è felicissimo ma perché quindi ha voluto vedere la figlia di quel dinosaurio carino ok ora vediamo da qualche parte dai usciamo dalla stanza ah ma ho capito che voglio raffreddare il muro ma non si me l'ha detto ma non è un pesce ma vedete un po' ciò che lo mangia eh è un pesce bene mi ha detto che è un pesce ma c'è un tipo ciccino a terra con il cellulare che si è spurgato è una nuova arma fila no vedo anche una nuova arma questa fila fila gargarismi elettrici io sono in penna tale guarda venga guarda sì spero siamo arrivati quasi a 5 minuti il video concluderà a fare poco aspetta vediamo un attimo dai raga forse per fino a 6 minuti dai per rendervi felici mi dispiace raga ma il video finisce qua aspetta aspetta 5 minuti ok ragazzi ricky dobbiamo dire ciao ciao di ciao ciao Sime Universe ciao ciao che ragazzi ciao ciao